Sono giorni di disagio per la raccolta rifiuti e queste immagini che ci arrivano da indicatore alla scuola materna lo confermano, guardate quanta carta in particolare accatastata si trova qui nella zona, ci sono anche altri rifiuti, dalla scuola ci fanno sapere che non ci sono particolari disagi, la raccolta ci risulta dovrebbe avvenire il giovedì ma qui sembra che non avvenga da più tempo e l'ammasso è davvero evidente. Qui invece siamo tra via Rismondo e via Veneto nella piazzetta che delimita un'altra scuola la 4 novembre, foglie accatastate, vedete quante ce ne sono, poi anche cartacce, piazza che spesso non viene pulita e ripulita, foglie che poi se portate dal vento potrebbe costruire anche i tombini, vediamo anche degli escrementi, insomma una piazza che spesso lascia desideri dal punto di vista della sua polizia, allora ci si chiede se la classifica del quotidiano Italia Oggi abbia tenuto conto anche di questi disservizi dei rifiuti e nella pulizia delle strade.